Da quando ci siamo insediati abbiamo perseguito questo che era il problema vitale per la società, la sistemazione di un debito di oltre 12 milioni che siamo riusciti a riportare e a ridurre a soli 8 milioni. Quindi noi adesso abbiamo una società, restituiamo al territorio una società finanziariamente sana, senza un euro di debito e con un patrimonio costituito dagli impianti di risalita che ammonta svariati milioni di euro. Abbiamo acquistato recentemente dalla ex sangritana Oggi Tua un tappeto mobile che verrà adibito a scuola, a campo scuola. E' una richiesta pressante che noi abbiamo ricevuto dai maestri di sci e che permetterà anche l'utilizzo di un parco giochi anche l'estate. Noi intanto abbiamo assicurato per i prossimi 5 anni l'incasso di un canone per la gestione degli impianti. Stiamo perfezionando il contratto con il consorzio aggiudicatario. Questo ci permetterà di beneficiare di 170 mila euro, 150 più IVA, che comunque costituirà una base su cui poter contare anche per quelli che sono i futuri investimenti. Ma soprattutto il ripiano del nostro bilancio ci permetterà di accedere al credito bancario.